Belli rega e bentornati a un'altra parte della guida a Pokémon Platino Qui con me c'è una persona un po' speciale, una persona che tiene la chiave Io tengo le chiavi di tutti, sia chiaro Cazzo sì, se non l'avete... Vi chiavo tutti anche, se non te lo presento Lui scopa tutti, lui dà sesso per beneficenza Allora, signori, dove eravamo rimasti? Ah beh, se non l'avete riconosciuto, lui è il grande... Colui che tiene la chiave Colui che tiene la chiave, perché dare spiegazioni? 90-94 94, giusto, specifichiamo Allora, abbiamo repellenti? Sì, ne abbiamo 29 E allora siamo a cavallo Sei sicuri? A cavallo? Siamo su Gallop No, andiamo con volo su Poppo Poppo per me è stata la cosa più bella Hai sentito che le ferie come si chiama in giapponese? Oddio no Pippi Stai scherzando No, perché lo dice, non lo dice quando lo presenta Lo dice nell'ultimo, lo dice Oddio, allora me lo devo assolutamente rivedere Pippi Vabbè, via, basta Pensiamo alla parte Sì, sì, intanto qua noi si uccide Uccidiamo tutti Ti uccidono a te? Oddio Uh, mamma mia Vivi Vivi, controponi Mamma mia Livello 25 Figa così tanto? 781 Eh, mica seghe Vabbè, a sto punto mettiamo No, teniamo davanti lui Però curiamolo Dov'è? Non devo andare in strumenti Ma devo andare Dove cazzo è? Ok Hola Super potion Signori, siamo entrambi a casa da soli oggi Io mangerò le quattro Lui è più bravo di me Eh, manda No, io perché ho fame Sennò non mangerei proprio Ma anche io ho fame Però non ne ho mezza Voglio andare a prendere quelle fucking bacche Ok, signori Pensavo da mangiare veramente le bacche Ovvio, me le faccio portare a casa Mi trolli in questo modo anche te Beh, signori Comunque ho ordinato un microfono nuovo Oh Quindi finalmente sentirete la mia voce per tutto il video Vabbè, andrà a interruzioni Merda, mi sta troppo sui coglioni Quando vado a renderizzare la parte che vedo dei buchi nell'audio Finito l'effetto del repellente Tu vedi con quanto ritardo? Cosa? Ah, le cose No, lo vedo con poco Uno, due secondi al massimo Vabbè, che roba Si vede che di mattina la mia connessione è pseudo seria Ah, ma non è mattina Come non è mattina Eh, ma insomma Almeno è l'una È l'una e mezza E poi è sabato, strano Sabato non lavoro Quindi dovrebbe essere più gente Sarà un caso strano Allora, ci ha dato l'MT51 Che contiene L'Ore dei Keyholder Che ne so che cazzo Male, dovresti saperlo che contiene Trespolo, ovvio Sono andato a vederlo Sono andato a vedere per controllare Dai, su Cosa contiene? Che non l'ho visto Trespolo Trespolo Eh, una mossa che cazzo sì Senza quello ho un paivino Eh beh Si potevano evitare questi due allenatori Ma noi siamo Feige e li abbiamo Oddio E l'abbiamo preso nel culo Chissà di sì Andiamo a fare scintilla Scintilla Scintillami tutto Ah Uh, attenzione, attenzione, attenzione Ancora scintilla su Rapidash E dovrebbe andare K-O Usa Bracere su Eevee Ruotafuoco su Luxio E poi Rapidash va K-O Ma Eevee in cosa lo fa evolvere? Eh, o Lifion o Glaceon Non lo so Devo Unzarci Tu cosa mi consigli Colui che tiene la chiave? Poi dipende che squadra ti vuoi fare Ah, la squadra è già a posto Ovvero allora C'hai Luxio Luxio Luxray, Geridos Luxray, Geridos Garchomp Infernape E Togekiss Eh, bella domanda Allora su quale sia meglio Eh, già Sono abbastanza Nogis Perché Uno ha più mosse L'altro ha più statistiche A finire ti se volvi in Sylveon Vabbè, faccio B Oppure gli do la pietra stante Che ovviamente ho No, non è vero Però vabbè Boh, non lo so Non ne ho la più pallida idea Megby crocifisso nel frattempo Finta ancora E con un attacco rapido Mandiamo KO questo Questo stronzo Stronzo Togepi E allora mandiamo il nostro Mandiamo Togepi Cazzo sì Metronomo vs metronomo Vediamo che cosa viene fuori Colpo coda Stai scherzando Attenzione No, dolce bacio Confuso Proprio puoi sempre usare Metronomo Scintilla Ma vaffanculo Ripeti Ok, beh, toccherà Ti fa scintillare Mamma mia Ma ora manca solo Pistolacqua E siamo a posto Da vedere Uh, no Si è addormentato Mentre spariva all'istante Vaffanculo No, cazzo Che era coso? Era Rimbalzo Ah, rimbalzo Mi sembra, eh Poi boh Merda, mi si è addormentato Vaffanculo E te continua a fare l'attacco Tanto non ti fa l'attacco Eh, ma vecchio Ma adesso è calata la felicità Non si evolverà mai Questo Pokémon Condolianze Ma metti i trucchi E cattura Toggi Chi si direttamente, no? Sai che non mi sono mai andati I trucchi dei Pokémon a me Ecco Questa te la potevi risparmiare Cioè? Che adesso Tutti ti prenderanno Per uno che li allena seriamente i Pokémon Ma io li alleno seriamente i Pokémon Io ho detto i trucchi dei Ma c'è gente che pensa Che magari tu li usi Ah, no, no, no Ve l'ho detto L'unica volta che li ho usati L'ho detto Aerocolpo Mamma mia Ma vaffanculo Ma muori, per favore Per favore Ma che vuoi di più? Sgomento Stai scherzando Stai decisamente scherzando Chi non ha effetto? Ovvio, beh Poi adesso sono così confuso Da colpirmi da solo Dormo Doppio ago Dai Rocciotomba Mamma mia E non sale nemmeno di livello Vaffanculo C'è un modo per far salire la felicità dei Pokémon? Non so, con qualche strumento Gli ficchi un dito un culo Eh, a parte quello Che so che gli piace Gli garba parecchio Ma Eh, tipo Ah, per Togipi Ce n'è un metodo particolare L'avevo letto In pratica Tu rompi l'uovo E lo fai il degamino Vedrai Ma è felice poi Smetti di prendermi per il culo Io sono serio Anch'io Entri nel taverno A sfidare gli allenatori Vai, Cleferi C'è Pippi Potenzione Un PS Io direi di cambiare Pokémon Così a sentimento Mettiamo Gabite Sì Mamma mia Sono qui Sono, io all'inizio Leggevo sono qui Perché sono stupido Ti giuro Mi sento troppo stupido In questo momento Perché Cioè ci sono arrivato Da qualche mese Che si legge sono qui Però all'inizio Leggevo sono qui Sono qui Ah, ma sono tutti allenatori Questi Non mi sa di sì Munchlax Munchlax Mamma mia E si evolve in Gli snorlax Sì Eh, ok Obvisli Obvisli E come si evolve? Non per livello Non Aspetta Trovi a cercare su internet Oh, bella Si evolve anche lui Per la felicità Boh, non lo so Non me lo ricordo Sinceramente Ho cercato Munch dokład Evie livello 26 E Gabite livello 27 Mamma mia Milf Sei fortissimo Si evolve tramite felicità Ok Tu mi devi Vuoi bere qualcosa? Abbiamo solo latte mummù Eh beh direi proprio di sì Un negroni per favore Prendiamone due dozzine Tanto abbiamo i gran big money Noi e bam Lo sai che ho provato a mandare la richiesta full screen Con il secondo canale Però me l'ha rifiutata Lo sai quali sono i requisiti che ci vogliono? No Pensavo fosse una domanda No no ti chiedo in caso l'isla fessa No io non me lo ricordo sinceramente Secondo me l'isla dark Perché è lui che mi ha portato su quella via Ah perfetto Sulla via del full screen Ed è in guerriero No comunque quando è Non chiederla da solo Perché ti porto Io dentro e danno dei soldi a me Ah è stronza Poi facciamo la metà Certo Sì Certo Stai registrando Ricordati È una prova Ti potrei denunciare No ma sai cosa Ma perché sono stupido Fanculo Fuori Cacciatelo fuori Per favore Che è successo dai No niente ho usato morso quando potevo usare l'ira di drago Eccoli Eccoli gli Gli psydac che dicevamo Psydac Perfetto Allora di qua c'è un saltino Andiamo a prendere quello Strum Ma i miei pokemon sono morti Non possono Mettiamo il biciclino Che cazzo What the fuck Ah devo A B Eh si Ma sali Vaffanculo Oh Vaffanchiappa Vaffanbip Ma i miei pokemon sono morti Dai Fisso Fisso Che mi paralizzano Togepi Proprio è È già scritto È andannato È andannato Sì è già scritto Facciamo sbadiglio Su Clefairy No ma io non posso andare avanti Con questi due pokemon Eh? Io non puoi andare avanti Su questi pokemon Ma guardali Ivy e Togepi Eh vabbè Dai Secondo me adesso Ivy veramente si evolve in espion No È appena stato paralizzato Quindi direi proprio di no Perfetto Direi che la felicità Non c'è No ma per espion Non serve la felicità Eh si è No Basta allenarlo di giorno No Lo alleni di giorno E Quando ha una certa felicità E Sale di livello Di giorno Allora si evolve Se non ha una certa felicità Non si evolve Nemmeno in Umbreon Ma porca puttana Ce la faccio Ok Cioè io Quando Quando farò domanda con Fuskin Quindi mi rivolgerò a te No non la devi fare Tipo Cioè Quando vuoi Tu me lo dici Io Bam Capito Ok a te Bam Perché c'è scritto Inserisci Il nome del Kanagia Che vuoi Che vuoi Cosare Poi Poi Cioè Deboia Si parla del diavolo E Dark Scrive su Deboia Si parla del diavolo Spunta E corna De Non è possibile Scrive sul gruppo De bucketumers Scrive Ah si Oh Non ci credo Si evolve Si evolve Oddio 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 È morto 5 volte Come fa a essere felice Felice è che ci sono io Oh Che emozione Il tuo dog Adesso ti serve la pietra albore Si la pietra albore E non so dove cazzo si trovi Sinceramente Tanto è inutile È inutile come prima Finché non imparo Sì Infatti Ma andiamolo a vedere Questo bellissimo Bellissimo Pokémon Bellissimo Bellissimo Natura ardita E Armano Ok no basta Sto zitto Le statistiche fanno sempre un po' E poi vabbè le mosse sono sempre quelle Ma signori ma poi dico C'è Deboia C'è sempre quella Fai merenda De De Deboia Gli ho detto Deboia De De Ma io lo so veramente Una frana di vaini l'ho pagato Per davvero Allora benvenuta L'ipercoppe Salve Io volevo acquistare Una vettura Volevo acquistare Una vettura Ah ma lei come la voleva Questa vettura Ma Ma come vedi io sono un giovane Lavora qui da fu È vero Merda che spettacolo Appena dici troia la macchina Si leva di culo Si leva di culo L'hai visto Attenzione Eppini Eppini Ma cosa ha due ps quel pokemon Attenzione adesso se volvo anche ibi Me lo sento Se volvo anche ibi No faccio b Diventa espion Però me lo sento Diventa espion Oh non l'ho diventa No ho sbagliato Devo rifare tutto Sei saltato di sotto Stai scherzando Ti ha trollato Il gioco ti ha trollato Veramente No adesso becco anche i pokemon Nell'erba e il Ehi Chi è Scyther 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 Fuga Scyther Merda però mi piace Chi Scyther Scyther Eppure forte mi sa no Cioè non l'ho mai avuto Vorrei provarlo Ma non ho mai lo sbatto di catturarlo No Adesso fisso che è un pipi su No è un super repellente Dai c'è È un pipi su È un super repellente Cioè hai fatto tutta sta strada Per un cazzo Per un super repellente Sì Attenzione piove nel percorso 215 Attenzione piove Piove su di noi Piove Senti come piove Da come piove Minchia come piove No basta pokemon Lo giro ci provo a caricare una partita in awake adesso Oh Tanto mi vado a guardare la tv Signori andatevi tutti quanti a iscrivere a Ecco bravo Fatemi pubblicità occulta Esatto Al canale di Di colui che tiene la chiave Chiamato Profet Profet No profet Come dice Profet Come dice Soak Come dice Soak 383 Soak culo Poverino dai Ma che poverino Gli sta solo bene Signori Dislike a tutti i video di Soak Mi raccomando No Soak Ti vogliamo bene In fondo In fondo Ma col cazzo Che bello Povero Soak Ma tipo Il mio Geridos Quando è che hai la decenza di imparare una mossa di tipo acqua Così Giusto per Non so quando Giusto per appunto Ah ma dovrei avere surf io Ce l'ho già Che tu sappia No Surf te lo danno a Memoride No che Memoride Sì Memoride Sto danno a Memoride C'hai anche ragione Usiamo pure Ira di Drago Bene Mi ha finito di rendrizzare il video Perfetto Cazzo si Oh comunque stamattina la connessione va da dio Anche il mio computer C'è 300% Con Camtasia aperto Skype Merda Vabbè quella non è la connessione Quella è Sì ok Però di solito il mio computer già si impalla da solo Invece stamattina La tecnologia c'è proprio Nemorpa mia De De Boh è mica colpa tua De Non è possibile Cing 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 Eh? No niente No cazzo No Se qualcuno ti fa un torto Tu cosa ti prendi? Una bella rivincita Eh Succederanno le lotte Pokémon Ma non farlo nella vita reale Altrimenti la lotta sarà infinita Hai tenuto MT66 Che cosa conterrà mai Questa MT 66? Sì Aspetta Me lo sento Me lo sento Dai dai Sì Aspetta Aspetta Non sto guardando ti giuro Sto cercando Sto cercando di capire che cosa contiene Aspetta Mi stai prendendo per il culo No no Aspetta C'è appena stato un discorso Che ti faceva capire tutto L'ho presa prima L'ho presa in coso Abbiamo appena parlato Di Rivincita Bravissimo Mamma mia se ne sa Vedi Wikipedia cosa serve a volte L'albero si può battere con taglio Io non ho taglio Perché ho messo giù Bidou Io Non mi ricordo di cazzo Ho evitato quell'allenatore No dai Battiamolo No Straravia Fughiamo Utilizzando fuga facile Ancora un altro Pokémon leggendabile Inizia a piovere Che è successo? Ho ruttato Ma non ti sentivo più Siccome Sì che Sì che de De Sì che de Dai inizia a parlare solo in toscano No no Non credo Guarda che non sto scherzando Neanch'io No Ti avviso che siamo a 16 minuti Sì sì ma vai tranquillo Io arrivo a 20 Poi se tu vuoi andare via vai No 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 Io non so se poi ti vengono troppo pesante Ti trattengo mica de De Non c'è problema Ti preoccupare No così torno a fare 20 minuti e passa a parte No ma questo non ha più mosse Vero Vabbè andiamo di dolce bacio E speriamo Questo non ha più mosse E speriamo Questo stronzo non ha più mosse No non è possibile Oddio imparate delle mosse Pokémon di merda Attenzione un'offesa non poco Ma per fortuna c'è Gabite che ci pensa lui Gabite 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 Ehi ma è Gabite Poliglocta Milf Hai visto il video che ho caricato Stamani Hai caricato Ho visto De ho visto Pato è un giocatore Che ti risolve le partite Ho visto anche la serie Che sto Che sto Che insomma Eh Hai visto Anche la serie Che sta per uscire In Giappone Sì sì L'ho visto L'ho visto Quello di Rosso E Ecco ti ho anche commentato il video Oh ma Lasci scappare Porco Dio Merda La quarta volta Che ci Non ci scappa Ma tu mi stai prendendo per il culo Che cazzo c'ha Trappo Arena Questo Pokémon Oh Scampato pericolo Scusa Ho sclerato un attimo Non ti preoccupare Sclero anch'io Contro Dark Rising Fra poco Io non so come cazzo tu faccia Veramente Schiama autocontrollo Porca puttana Maremma Maremma Pestata Dai Sono due ciuffi d'erba Uno Due Sì Ne escono in Danny Sono due Siamo usciti in Danny In Danny Non in taxi In Danny Oddio che brutta questa Ma Fai dimmi Che cazzo è il Danny Ma che cazzo Allora Mettiamo davanti i Gabite E arriviamo agili Alla nuova città Agili eh Agili 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 Non è possibile Come si legge Krogank Krogank Sì Krogank Mamma mia Milf che impara le pronunce dei Pokemon Attenzione 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 per davvero Per il suo serio Ed è 373 punti Machop Merda a me mi sta salendo una cazzo di voglia di X e Y Merda stai buono Stai buono Il brutto è che io mi devo comprare anche il Nintendo Eh non ti preoccupare Già costa poco adesso con un gioco in bundle Poi si aspetta anche due mesi Costa mi pare 149 Con un gioco Sì Merda Se tu vai anche su Se tu vai su siti Tipo aspetta Ora ti controllo Tipo su Amazon Io mi volevo prendere l'edizione speciale Quella con sopra il disegno di Pikachu Che è fantastico Ma quello giallo Sì non si trova da tutte le parti Merda io dovrei insegnare Taglio a qualcuno Vaffanculo Eh bel problema Già Intanto mettiamo un repellente Anzi il 3DS XL costa 159 Quello normale No ma XL è troppo Sì 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 Lo so ovviamente Troppo grande Non mi piace A chi cazzo le insegno? Monferno o Gabite? Monferno Tanto c'è il limino a mosse Più avanti credo Sì è vero Al posto di Full misguardo Sì ovviamente Ok Che tristezza Merda che brutto Non possono mettere Sette Pokémon in squadra Vaffanculo E anche di più Sarebbe bello Merda Come anche il fatto di Non limitare soltanto 4 mosse Ma fare tutte le mosse Che può fare E sceglierne una Eh quello Quello sarebbe figo Però poi è troppo facile Cioè obiettivamente Onda Shock Mamma mia Subito insegnarla A coso Che cazzo è che si chiama Ma fa cagare Aspetta 20-60 Ma per cagare Ah è quella che è impossibile Da Da sbagliare No? Ho capito Sì No Adesso no Vedi Per esempio Il 3DS Bianco Costa 109 usato Merda Eh però è usato Io non mi fido tanto Vabbè del GameStop Lo puoi sempre Mandare indietro Ah del GameStop Sì sì Sul sito Sul sito E arriva Ma adesso Vedrò anche perché Secondo me Quando uscirà X e Y Non faranno l'offerta Cioè tipo gioco più Sicuramente Sicuramente sì Già io l'ho prenotato E c'è scritto Danno il regalo Quando lo prenoti Danno degli adesivi Più non si sa Se danno anche altre cose Ah sì? Sì Vabbè L'hai prenotato Quanto costa? Eh 44 l'uno E li hai fatti Tutte e due? Sì sì Io sempre Da quando sono Da quando sono piccolo Ho sempre avuto tutte e due Mera ma spendi un sacco Ho sempre avuto Vabbè però considera Che ci gioca anche il mio Mac Quindi spesso me ne paga Uno lei Ah ecco No è il mio invece Ma che cazzo sto facendo io? No No non ho più Pokémon Oddio 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 Ah C'ho Geridos Ehi Amigo Miero Io sono Erindia Io sono Erindia E raccora il mio Pokémon No ma Ormai c'è la nuova città Cazzo ma questi hanno sei po Oh mio Dio C'è tre per uno Via Beh divertiti No sono morto Cioè Togetic ha solo dolce bacio Ma dico io Oh uno Gliel'ho fatto fuori Uno eh Uno Sei Eh beh Si comincia dalle piccole cose Mi sa che torno indietro per forza Sai Eh Togetic è andato Ho solo Geridos Però Mmm Diventa Diventa faticosa la situazione Addirittura Si Buizel Intanto fa comete E intanto Lickitung È andato KO Dai così Me ne mancano solo Minchia Uno contro quattro Si Bene Vedo merda No ho morso Contro Ralzo Uno contro tre Dai si cazzo Mamma mia Geridos Cazzo c'è Roselia Vaffanculo E ha giga assorbimento tra l'altro Eccolo Beh mi togli un cazzo Buzz È finita Ho vinto No non morso Ira di drago Sempre su Roselia Intanto Buizel Continua a fare quelle cazzo di comete Io potrei curare Geridos Ma non lo voglio fare Vedi eh Ora ti fa brutto colpo Mera ti ammazzo Se fa brutto colpo C'è solo Buizel Si Ah no ce l'ha un altro Ce l'ha un altro Ah si Ah è vero è vero Merda Si ne è un altro Drift Blim Ok direi che lo curiamo Ok Allora Ma però a morso Almeno sei sicuro Che fa sicuro efficace Eh lo so Però metti che Più veloce Ok No si si Io dico Iper pozione Sugeridos Mamma mia L'unico superstite Funesto vento Mi avrebbe killato Funesto wind Ciao Drift Blim No Non muore Attenzione Attenzione Intanto mi arrivano Sms Li sento Sms Sms Ok possiamo andare Nella nuova città Perché Non c'è la nuova città Non c'era la nuova città No era finito il percorso Me lo ricordavo finito io qui Mi è venuta fame comunque A parlare A fare la Ecco Quindi mi sa che non mangerò Alle 4 O forse si Perché non Oh si che c'è la nuova città Vedi Che è Cuoripoli Volevo andare a Memoride Ma c'erano alcuni pokemon Che bloccavano la via Eh già Lo so Questo è Cuoripoli Ed eccoci a Rupepoli Rupepoli Ah si Che c'è la cosa del Team Plasma Si mi ricordo Si Plasma Galassia Galassia Dov'è il centro pokemon E su 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 No torna indietro No No Adesso mi attacca la pezza Mi attacca la pezza Che palle Vabbè Abbiamo svegliato Omar in pratica Che va Da qualche parte No O rientra in palestra Non mi ricordo No questa non è la sua palestra Qui c'è Marzia Ah ecco infatti Pratopoli lui ecco Merda ma tu ti ricordi tutto Io ho una memoria di merda Plasma è la mia Il mio gioco preferito In quanto a mappa Di mappa si Di mappa si E' fantastico Io mi sa Rossofuoco Rossofuoco Sofuoco Vabbè Leggendaria Regione Vai vai su Eccolo lì Pokemon miei Ora entri e ti sfida No ma che cazzo Da fun No non ce la farei O forse si O forse no O forse si Vuoi il tuo canale in descrizione Lore The Key Holder Così No non importa Non importa Tanto hai 1500 iscritti più di me Non è vero Ma ti prenderò Sono arrivato a 5300 Stai zitto Ti prenderò 5307 Ti prenderò Suegna Vabbè ma adesso tu fai Alan Wake Sì vabbè con quell'altro Non si dice Merda ho archivato un messaggio Invece di leggere Hai archivato Archiviato Vabbè signori Dai terminiamo quella parte Sì terminiamo quella parte Saluta Adios Rega Qua si violano i copyright Adios raghi Vabbè gliela abboniamo Via Saluti ci vediamo La prossima parte E quindi niente signori Noi Noi vi salutiamo Io vi ricordo di iscrivervi al mio canagia Se non l'avete ancora fatto E io di iscrivervi al mio canagia Non vi iscrivete Lasciate uno bello mi piace E uno bello commento E noi ci siamo back al prossimo video Belli rega Belli